Tifosi della Scandone in trepidazione davanti al Palazzo di Città, da poco si è chiusa la riunione con una soluzione tampone per questa società per garantire almeno fino a febbraio il pagamento degli stipendi alla squadra e anche il pagamento delle tasse e poi si vedrà con i successivi passi. Sì, è una situazione tampone che non risolve i problemi, noi restiamo delusi di questa situazione perché comunque non stiamo parlando di cifre esorbitanti. Se c'è la volontà di salvare la Scandone è inutile guardare il milione e otto, due milioni, due milioni e cento, voglio dire se c'è la volontà imprenditoriale e anche istituzionale di salvare la Scandone lo si fa, mi sembra un'agonia mano a mano che passa il tempo. Io non riesco a capire certi passaggi, si gioca con la passione della tifoseria che non è ovviamente solo quella degli original fans, la tifoseria del basket è una tifoseria particolare, anche se qui siamo in una cinquantina comunque sappiamo di rappresentare almeno due mila e cinquecento, tre mila persone che la domenica si riconoscono al palazzetto. Per cui noi rivolgiamo ancora un appello ulteriore agli imprenditori di questa provincia perché è brutto fare queste figure a livello nazionale, gli imprenditori irpini devono dimostrare le loro capacità e noi sappiamo che ci sono. Ci sono state diversificazioni e frizioni all'interno della riunione anche con interventi da parte di alcuni imprenditori che quasi si sono tirati indietro rispetto anche alle promesse fatte nei giorni scorsi. Come hai detto vi aspettavate una soluzione definitiva, ora bisogna aspettare un altro passo. Fino a febbraio la scandola andrà avanti grazie al finanziamento di 340 mila euro, poi cosa potrà succedere? Questo ci preoccupa, quindi significa che ci sarà un'altra estate calda. Noi quello che possiamo fare lo facciamo, certo non riusciamo a spostare grandi numeri, non possiamo andare in piazza e portare 3 mila persone. Cerchiamo di fare qualcosa però oggettivamente anche questa forma di prostituzione che sta facendo il gruppo da un po' di anni a questa parte ha stancato. Sinceramente se finisce la scanduna, finisce gli original fans, finisce tutto ad Avellino, noi ci sentiamo delusi. Un altro dato che è emerso da questo summit è la volontà di Ercolino rispetto anche alle sollecitazioni da più parti di farsi da parte, rispetto anche a una nuova possibilità di una nuova proprietà del sodalizio biancoverde. Io non credo che il problema sia se Ercolino si faccia da parte o meno, mi sembra che da quanto ho capito la famiglia Ercolino ha dichiarato che è disposta a qualsiasi soluzione. Non credo che il mancato accordo per prendere la scanduna sia dovuto al fatto che Ercolino è presidente o non è presidente. Mi sembra veramente appigli che non riesco a capire, anche perché poi non è che ho potuto partecipare alla riunione all'interno, per cui c'eri anche tu, una volta si usciva, usciva qualcuno e diceva sta andando bene, un'altra volta esciva un altro, sta andando male. Io sinceramente non riesco a capire, io dico solo che se c'è la volontà bisogna mettere da parte questa mentalità provinciale che esiste in questa città dove sembra che uno è invidioso dell'altro, l'altro si offende, veramente io non riesco a capire.